Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Qui troveremo il simulatore relativo alla prova preselettiva del TFA sesto ciclo, Samani. In questi video di questo canale, soprattutto quelli raggruppati all'interno del TFA sesto ciclo, troverete video di formazioni per le attività di sostegno nella scuola. Bene, se vi piace questo video, se volete rimanere sempre aggiornati, non dimenticate di iscrivervi al canale qui sotto. E al tempo stesso ricordate che mi fa sempre piacere sapere cosa ne pensate e quindi potete lasciare un commento qui sotto. In descrizione troverete altre risorse utili. Cominciamo con il primo test. La tassonomia degli obiettivi educativi è un aspetto del rapporto scuola-società, un aspetto della ricercazione, un aspetto della pedagogia curriculare, un aspetto del lavoro di gruppo, un aspetto degli obiettivi espressi nel PEI. Cominciamo il conto alla rovescia. La risposta corretta è un aspetto della pedagogia curriculare, infatti un aspetto della pedagogia curriculare, una corretta programmazione formativa in base ai bisogni formativi individuati nelle fasi della progettazione del percorso formativo. E quindi fa parte anche la tassonomia degli obiettivi, fa parte degli aspetti salienti della pedagogia curriculare. Negli anni 70 nacque il movimento della pedagogia dei curriculi. Gli elementi curriculari sono obiettivi didattici ed educativi. I contenuti, sia necessari che opzionali, i metodi, gli strumenti, le verifiche di controllo, i prerequisiti, i risultati ottenuti dagli allievo, le unità didattiche e i ritmi dell'apprendimento. Leggiamo il secondo test. Cosa si intende per continuità orizzontale? Allora, la collaborazione tra scuole e tutte le altre istituzioni convolte nell'educazione è il patto educativo delle corresponsabilità e l'orientamento permanente. La continuità dello sviluppo dello studente rappresenta la scuola continua, dalla materna alla scuola secondaria di secondo grado. La risposta esatta è la collaborazione tra scuole e tutte le altre istituzioni coinvolte nell'educazione. In particolare è fondamentale il rapporto scuola-famiglia. Quindi è necessario, cioè tutte le riforme che si sono susseguiti negli ultimi anni, sono state sempre riforme che hanno sottolineato la necessità di un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia. La crescita e la valorizzazione di ciascun allievo avviene nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia. Scelte educative della famiglia. Nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi sanciti dalla Costituzione. Questo è tratto dalla legge numero 53 del 2003. Bene, il patto educativo di corresponsabilità è il patto di corresponsabilità tra insegnanti del Consiglio di classe, l'assunzione da parte della famiglia delle proprie responsabilità nell'educazione dei figli, la corresponsabilità degli insegnanti di sostegno, la responsabilità degli studenti che non raggiungono il seno in condotta e la responsabilità del dirigente scolastico e dell'insegnante. Bene, allora è l'assunzione da parte della famiglia delle proprie responsabilità nell'educazione dei figli. Infatti, il patto educativo di corresponsabilità nasce dal DPR del numero 235 del 2007, che modifica lo statuto degli studenti e delle studentesse della scuola sedevondaria ed era essenzialmente pensato per inasprire le misure sanzionatorie previste per gli allievi. Le sanzioni degli allievi. Esso, a un certo punto, richiama le famiglie all'assunzione delle proprie responsabilità nell'educazione dei figli. Si pone come una sorta di contratto tra la comunità della scuola e la famiglia da firmare all'atto dell'iscrizione in maniera da definire la misura della condivisione delle responsabilità e i diritti e i doveri necessari per la gestione corretta del rapporto scuola-famiglia. Per orientamento si intende L'attività del dirigente scolastico La stesura del patto educativo L'attività del tutor nei confronti del docente Ne ho messo il ruolo L'attività che cerca di dare la possibilità ad un individuo la gestione e la pianificazione del proprio apprendimento L'orientamento storico della scuola italiana Bene, fatemi sapere se avete risposto tutti correttamente La risposta corretta è l'attività che cerca di dare la possibilità ad un individuo la gestione e la pianificazione del proprio apprendimento Infatti, tutto ciò serve anche alla gestione anche delle proprie esperienze di lavoro in coerenza con gli obiettivi personali di vita al fine di sfruttare appieno le competenze e gli interessi degli individui per poter raggiungere un pieno soddisfacimento personale Vi ringrazio per l'attenzione Vi auguro una buona continuazione di giornata Un caro saluto da Francesco Samani